Presentati questa mattina in conferenza stampa alcuni dei risultati della prima fase del Deep Drilling Project, l'esperimento di perforazione dei campi Flegrei coordinato dall'Osservatorio Vesuviano per l'acquisizione di informazioni sulla struttura profonda del suolo. Abbiamo studiato delle proprietà molto importanti della roccia, come per esempio la permeabilità, che è un parametro critico per i modelli di bradicisma, e poi anche siamo riusciti a misurare per la prima volta lo stato di sforzo crostale nella crosta superficiale, che è molto importante sia per i modelli della caldera ma anche per capire i processi di generazione dei terremoti nell'area. Abbiamo anche avuto dei risultati importanti dalla stratigrafia, per esempio abbiamo identificato proprio nella parte più profonda del pozzo uno strato di tuffo grigio che abbiamo datato a 45 mila anni fa, quindi è un'eruzione importante che però finora è ancora sconosciuta, per cui avremo modo poi di studiarla, di correlarla e probabilmente ci fornirà anche delle informazioni che prima assolutamente non conoscevamo. Il progetto pilota ha trivellato il suolo per una profondità di 502 metri. L'obiettivo ambizioso è quello di raggiungere una profondità sette volte maggiore. Abbiamo sempre come obiettivo quello di fare un pozzo di profondità a 3,5 km, abbiamo già un cofinanziamento dal consorzio per le perforazioni profonde, il consorzio internazionale, però ci servono ancora degli altri fondi per poter completare quelli che ci servono per il progetto, quindi li stiamo cercando e stiamo cercando di interessare tutte le fonti di finanziamento pubblico a livello principalmente internazionale, perché i fondi per la ricerca oggi sono in gran parte europei o comunque internazionali. Già al momento della prima trivellazione alcuni ricercatori avevano sollevato obiezioni sul possibile rischio legato alle perturbazioni dell'ampia caldera flegrea. Diversi comitati del territorio avevano a lungo contestato il progetto e presentato un esposto alla magistratura. Noi abbiamo già dimostrato con la prima che anche è stata fortemente criticata, si paventavano disastri, non è successo niente, sono successe solo cose belle e importanti per la vulcanologia. E dopodiché tutte queste cose, tutti i dubbi sono leciti purché vengano però espressi in maniera razionale. Noi abbiamo sempre avuto la massima disponibilità a discutere sia con i cittadini, ma ancora più importante, a discutere scientificamente con i nostri colleghi per capire se effettivamente ci possano essere delle problematiche.